Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico Cominciamo a bomba in una velocissima puntata dedicata agli emulatori software per Macintosh Infatti è possibile emulare il sistema operativo Macintosh ad esempio su Linux Il link di tutta questa roba lo trovate in descrizione di questo video C'è Darling che è un emulatore per eseguire applicazioni Macintosh su Linux Abbiamo Mini Virtual Mac, programma per emulare ed avviare applicazioni di Macintosh Plus Quindi addirittura a 24 bit Vediamo poi altre cose che c'è Praticamente possiamo andare a trovare per PC Programma emulatori del sistema Apple Macintosh per PC Funziona su Mac OS X Qui abbiamo WinMac che è il sistema programma per emulatori Il sistema Apple su Macintosh che è praticamente in un certo qual modo Il clone della versione di quello che c'è per Windows per Apple 2 Qui su WinMac è possibile far girare System 7, Mac OS 8 e 9 Mac OS X Server Ok, poi abbiamo Apple 2 Oasis Una serie di programmi emulatori del sistema Apple Macintosh Diciamo Apple Oasis Apple 2 Oasis è un software in grado di emulare e quindi di eseguire Questi sono però programmi per Apple 2 Il grosso diciamo sono per PC, WinMac Poi abbiamo Mini Virtual Mac Darling E quindi questo è quanto Tutto lo trovate linkato in descrizione di questo file Per questa puntata è tutto Un saluto, ciao Alla prossima